Sono in assoluto il maggiore perseguitato dalla magistratura di tutte le epoche, di tutta la storia degli uomini in tutto il mondo. C'è uno stato parallelo che è fatto da tutti i poteri forti organizzati che sono nelle mani della sinistra e sono le scuole superiori, le università, i giornali, le radio, le televisioni, la magistratura, la magistratura o no? Io avrei potuto spendere più di 200 milioni di euro per consulenti e giudici. C'è un produttore che sta montando un film sui campi di concentramento nazisti, la suggerirò per il ruolo di Capò. A presto poi охiego a tutti. Faccio cerchi. Faccio cerchi. S 토, Nic.